Ciao ragazzi, sono Tizia Novecento e siamo sulla terrazza di Villa Borghese, che si affaccia precisamente su Piazza del Popolo. Qui si terrà il raduno di Parliamo di Videogiochi e io e le mie ragazze stiamo andando precisamente là. Si vede tutta Roma da qua sopra. E niente, adesso scendiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo appena scesi a Piazza del Popolo e già si vede un bel po' di gente sotto l'obelisco. Ci avviciniamo un altro poco. Come potete vedere già ci sta un po' di gente seduta sulle scalinate che presumo aspetti e il team di Parliamo di Videogiochi. Andiamo a vedere questa bella statua. Sta gente che canta. Andiamo se l'amore. E' ancora presto, manca più o meno una mezz'oretta. E non si vede ancora niente. E là c'è un gruppo di ragazzi. E' ancora presto, manca più o meno una mezz'oretta. E' ancora presto, manca più o meno una mezz'oretta. e con questo aspettiamo il team di Parliamo di Videogiochi. Ecco qua, sono arrivato il team di Parliamo di Videogiochi. All'uomo! All'uomo! Oddio! Andiamo a Seriglio! Sono massimo! No, è proprio da un po' Insomma di svegliare il massimo. Ma siete davanti ragazzi? Sono commosi! Sono seriamente commosi! Io sono letteralmente tre volte! Però ragazzi, noi non ci diamo! Senti che si è! Abbiamo un bravo che giocava un balletto! Un balletto! Tu sei quello più predisposto! Ma non manca chi? Ma non siete persi pochi che fino a cazzo? No! L'uomo è morto! 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 Dalla lì mi stupiamo a morti! L'uomo è morto! Per noi con l'università ci è rimasto! No! No! Cosa fa? No! Ti si è messo pure il rumore! Hai visto? Hai visto? Hai visto? No! Sì! Un bravo! Guarda Guarda Dai dai Grazie Ruben tieni quella con Faus Vieni ma ci sta lui Aspetta cosa facciamo Vieni Vio Vieni Vio Non lo so forse più starlo Maggio devo chiamare Vieni Vio Vieni Vio Vieni Vio Vieni Vio Vieni Vio Vieni Vio Grazie Vieni Vio 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 La penna di chi era l'altra Vieni Vio Vieni Vio a giocchi di mezzanotte sono ubi di mezzanotte perché mi fai più cagare sotto l'uoli questo te lo devo dire, sono un po' più con l'uoli tua vabbè che con quelle Zelda si rimane stromatizzate quelle Zelda? e l'abbiamo pre-tagliato su Zelda perché è molto più lungo in realtà continuiamo il video stiamo sempre a Piazza del Popolo e saremo buona cinquantina quanto dobbiamo morire? che ne so io ecco anche lì no dai facciamo un gioco sbannate che riesce a dire come si fa la pozione di esperienza la pozione di esperienza si può fare la gente è cazzale Fraus però io è rimasto una panetta rosa ma che? bellissima te lo porto la penna te lo spaventiamo sotto all'ombra? si infatti, mi sembra una cosa ah ecco la penna me l'ho chiesto prima di chiedere ma se fai del regalo? no vabbè figure, mi sto riempendo di penna però la maglietta di Call of Duty potevo evitare è infatti tutti quanti che mi fa cagare ultimamente Fraus ma che è video Wonder 4 3? anche qua quello che ho fatto lo streaming non lo so se hai fatto lo streaming tu sai che è Master System è Wonder 4 3? è Wonder 4 3? si, quello del Master System è la stessa della Mega Drive si, ho finito una ventina di volte l'ho fatto pure in streaming poi ce l'ho fatto un video video? ciao ciao piacere Mario grazie però se mi fai un sito di potenza ah se mi fai un sito di potenza ah se mi fai un sito di potenza oh, si è già sudando la mano infatti, ti volevo mettere all'ombra che sto bovendo infatti ma quando ce ne andiamo da qua dove andiamo? nella porghese ti aspettiamo un altro pochino perché l'appuntamento è tra 5 minuti si, si, si 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 ci riusci sarà buono si 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 morta è si 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 se si si a chi la dedico noi voglio, voglio un autografo pure da lui, io dall'altra parte, è Lino che mi fa un autografo, c'è quella di Igor, dove fai pure un autografo a me, a Tiziano, scordate che sto sulla mano, è difficile, grazie, scusami che stai con il cuoccio di due secondi, no prima che è meglio, neanche la cicatrice mi sta permanente poi, oddio, non so più la maglia di Griever, no, ci darai, 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 c'è una domenica che ha fatto finito il bello, ah, finito il bello, ah, non lo userò mai, non lo lavare, è indimenticabile questa prima, aspetta, ti richiudi che sennò poi, e con questa parte di video stiamo, aspettiamo che ci spostiamo a Villa Borghese, che fa un'altra Haveta, andiamo avedendo il ruolo, so, dopo, quando andiamo a Villa Borghese, dove dobbiamo andare, e dobbiamo andare, Giacomo, però le dita sulla telecamera non è che penso sia una, E' un pazzo, non l'hai dita, Giacomo! 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 Alzzate le mani al cielo! Forza! Io mi vedo il giorno a Municipale che viene Porta i centrali... No, no, ma tu scherzi, sono seriamente preoccupato Quente, perché siete qua? Tu sei quanti che iniziano a me? No, stavo iniziando a vedere un pochino Nooo! Nooo! Grandesima! Grandesima! Ma già l'hai fatta! Ma che cacchio l'hai pagato? E' un peccato distruggerlo allora No, non possiamo Cioè, il seriale E' un peccato! E' un peccato! E' un peccato! Gioco bellissimo! Io l'ho preso e già l'ho ridato! Perché è stupendo, come vuoi! E' stupendo! E' un peccato! Ok! Tu devi fare una foto a lui! No, no, tu! Lo dò con la pipa fuori! Prossima Jimbo me la goto! Nessuna di due! No, non gli vuoi passata domanda! E' un peccato! Andiamo di mezzo! Eh! Io faccio il video in continuazione! E poi te lo firmo! Non penso che rimanga! Giustamente! La faccio sul codice seriale! Ti direi che ti dice calci! Guarda che ti fa un bene se non parte il gioco! Ma perché è un bene? E' un bene! Quanto spendi per tutti i giochi dell'altra? Guarda, se costano più di due euro non ricompro! Ahahahahah! Eh aspetta! Questo è il prossimo gioco brutto! Esatto! Ma se è il gioco brutto? Nooo! L'altro non c'è l'ho! Cosa c'è l'ho! io ho paura di aprirlo apri apri ma dire te ne male tutto il tempo te devi tenere in mano tutto il tempo dai dai passano i panati con mezzi delle streame quanta gente è stata bannata dal server dal server? dal server è stato bannato il server è stato bannato sporca regolare il minciato sporca regolare dove sta chi? è lì dove sta lì? è lì ma non vuol dire vado a cascata una fontana Grazie a tutti. 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 Voi ormai. Magica. Grazie a tutti. Parliamo. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Se qualcuno dice non ho il gioco originale posso entrare e banno, se lei si banna apre il server Ma perché non aprite il server anche noi che non lo dobbiamo comprare? Non esiste Minecraft non comprate, è un vostro parto della mente Hai ragione, Minecraft SP, perché non ci dobbiamo capire Minecraft SP? Mi hanno fatto un bello smart flash alla blue black Puoi diventare admin? Direi che devi fare le domande, fai le domande Allora, facciamo il test per diventare sin Mettiti ideali Il test per diventare sin, scusate mai intiate nel test 32x32, altezza 30 Ma no, le luci che si accendono Con il sistema di comunicazione Per diventare altri, fammi un po' di domande Giorno di infatti daresti per aver detto la strontata del genere Quasi permanenza No no, noi siamo quasi permanente con il rinnovo Si è riporto da tutti Con il rinnovo del terrum Con il rinnovo del terrum Ad eternum Per certe giorni Ragazzi, ci separa un Cespuglio Meno male, meno male che c'è Cespuglio che si divide Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Poi sono in patenza Skyrock Niente Cazzo? Eeeh E' una bellissima città Vieni nooo ho spessato il simulatore vogliamo una stoppa nooo nooo della sera con le ragazze basta quanti giochi hai fatto da oddio fammi vedere quanti dei guadagnoli dei guadagnoli? no non ci sono mai ah chi vuoi vedere? infatti ci sono se basta oi sai pur presupponente chi è che mi arriva a pagare per me ma pensai a me anche simulator 2 che c'è anche il comparto multiplayer il multiplayer ce l'ha pure bootcut al simulatore quello dobbiamo fare ma nooo che c'è da multiplayer? c'è multiplayer la bootcut a simulatore chi si trova? chi si trova? chi si trova? chi si trova? no non c'è una data vista quando decidiamo di farlo domani torniamo a fare domani quando tu stai? non c'è anche un po' di tempo portami ci lo fanno con me guarda ma la voce eh? ci lo fanno con me guarda ma la voce la faccio sempre io capisco scusa 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 si va beh l'importante che ci sono parte 1 se lo facciamo insieme l'appunto facciamo un video cazzo dico non cazzo non cazzo non cazzo e non cazzo male e niente stai in mezzo allo spazio e ho detto che devi attraccare la stazione esaziale tra poco niente perché ne sei? Senti che l'altro gioco è PlayStation 1, un vecchio atto del 97, però notandola che ci sta tipo FIFA 98, che da geografiche era molto migliore rispetto a quest'altro gioco, a Cosa c'era un gioco che... Cosa c'era un gioco molto migliore? Pure Aqua Gold, Vacta Tennis, si stanno tutte i sere dell'Aqua Cioè, ma i giocatori sono tutti uguali Vabbè, ma un gioco dell'epoca cosa vuoi, cioè... Sì, ma non... cioè, FIFA 98 è tutta un'altra cosa rispetto a questo Vabbè, ma tu metti confatto FIFA con Aqua, mi ricordo dell'Aqua, c'era il gioco del golf, era molto bello Pure quello che... Sì, ma quella del calcio si fa... Se la so, fa un po' schifo, però... Fa schifo! Potrei scegliere pure, mi ricordo la... la colorosità della tifoseria Sì, potrei credere Sì, ma se mi ti calcio vecchio, ti migliori Sì, ma io c'ho FIFA 93 sul Mega Drive, spettacolare Il primo... Facevi i... i pari ai portieri? Sì! Stupendo! Lo stai facendo il video, pure? O foto? Mi sono drogato, l'ho già scosto Bellissimo Guarda, è l'unico gioco che se usi il trainer è più divertente del gioco normale Cioè, uniti metti a unire 5-6 mapporte con i cavi, ti attacchi a un fulma che butti giù dalla collina Sì, oppure se metti altri trucchi è sempre bello, vieni la polizia, ti attacchi il... Sì, mi ricorderò di te per sempre Sì, mi ricordo Sì, mi ricordo a scolacchio Ci sono un titolo troppo Sti cazzi Bravo, il discorso finale Ok, dai, fammi prendere la telecamera Ah, pure il discorso Il cinematogra Eh? Hai ripreso un striscione Senti, dato che stavi sempre col telefono in mano No, la ripresa, fa l'acqua La vuoi fare tu la ripresa Quando poi finisco, passamela che riprendo Paffa Ho che non far volare la roba E volare un fogliettino Dimmi come devo fare Niente Aspetta che te la faccio partire io Ho che non farla volare Lo facciamo alla luce o... Lo facciamolo qua, dai Ma facciamolo qua, dai Viva Dai, ragazzo Alcontrato Facciamo i videojoghi con Fissa Roma No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no Beh Mi ha ripreso già C'è il pallino rosso 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 Allora Che dico il pallino rosso in bocca Ehm No, aspetta Tranquillate le mani C'è la mascara Che non sappio Che lo vado? Ehm Un attimo deve caricare è sta piena paralisi Avviciniamo un attimo la telecamera concludiamo così questa fantastica giornata romana del 21 luglio 2012 con tutte le persone che sono rimaste fino a questo punto sono le 5.15 siamo in giro dalle 11 e non c'hanno un cazzo da fare ragazzi vi vogliamo tutti quanti bene tutti quelli che hanno partecipato vi ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo quelli che si sono presentati o meno grazie buon ricordo di camera grazie a tutti ragazzi grazie a tutti ragazzi qui è tutto da Pro ci rivediamo al prossimo video ciao 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 a tutti ragazzi, sono quasi le 9 di sera e sono tornato da un paio di orette al raduno di Parliamo di Videogiochi che si è svolto a Roma Precisamente a Piazza del Popolo ci siamo trovati e dopodiché siamo saliti fin su a Villa Borghese Allora, devo fare subito ringraziamento al team di Parliamo di Videogiochi per quello che ci offrono tutti i giorni Con video, streaming eccetera ed anche per questo grande raduno perché eravamo veramente tanti, ma tanti Adesso starete vedendo delle foto in cui ovviamente non si vede bene in quanti siamo perché siamo veramente tanti Saremmo stati un centinaio più o meno, senza esagerare Vi ricordo che sulla pagina di Facebook i partecipanti erano quasi, erano 170 più o meno Però ovviamente non sono mai 170, ma vabbè fa niente E che dire, sì magari all'inizio saranno stati un po' timidi Soprattutto Fraus che si vedeva appena visto tutta questa gente davanti ai suoi occhi E quasi non sapeva più che fare Questo ovviamente è normalissimo perché una cosa è fare video davanti a un computer Una cosa è trovarsi centinaia di persone davanti a sé Che vogliono foto, autografi e gli saltano addosso Comunque per terminare questo commento finale Mi sono divertito, molto Ed ho anche vinto la fantastica maglietta di Fraus Che vedrete alle ultime foto di questo video E niente, mettete mi piace al video Soprattutto se avete partecipato a questo fantastico raduno E guardate la foto epic di Fraus in questo momento Troppo bella Qua ci stanno una serie di scatti di tutto il team Di Parliamo di Videogiochi messi insieme E che ha partecipato a questo raduno E niente, mettete mi piace Condividete ovviamente su Facebook E fate girare il più possibile questo video Io sono Tiziano Bacento E ciao a tutti Grazie 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 Grazie